Seracusa ruba tre bottiglie di liquori in un supermercato mentre doveva trovarsi ai domiciliari arrestato. Continua l'attenzione degli uffici investigativi della costruzione di Seracusa dei commissariati distaccati nei confronti dei soggetti che evadendo dagli arresti domiciliari commettono altri reati. In specie agente delle volanti hanno eseguito un aggravamento della misura della detenzione domiciliaria con quella carceraria nei confronti di un uomo di 38 anni per il quale si sono aperte le porte del carcere di Cavadonna dopo che lo stesso perpetrava un furto di tre bottiglie di liquori in un supermercato sito in via Elorina mentre doveva trovarsi ai domiciliari. L'autorità giudiziaria competente a seguito della puntuale segnalazione dei poliziotti diretti dalla dottoressa Guerrino ha emesso la più restrittiva misura carceraria poi eseguita dagli stessi operatori delle volanti.